Il Ho fatto il Quebec intanto Che non ci interessava Insomma ci va a velocizzare Le grandi meraviglie Allora, Caba Fattoria e fattoria Beh, giardini pensi di qua Critica Però vabbè, abbiamo la muratura Quindi non dovremmo avere tutto questo tipo di problema Poi il marmo comunque È la migliore nel gioco Vabbè A breve qua Andiamo a sbloccare Per i citizens Quindi qua abbiamo Città del capo Ma mi spieghi che cazzo Il senso è avere una città qua E fondarne una qua Che non c'è una comunicazione netta Adesso devi fondare due città qua E c'hai atti l'appresso Busan sicuramente non regge C'è la grande mesa Con lo zucchero Bel buono qua Possiamo fare un uno Un due qua Un tre qua Un quattro qua Possiamo giocare così E copriamo tutto Hanno fatto la grande biblioteca Che non ci serve Serviva a lui In realtà La grande biblioteca Ma da carico correana Che non mi dice però cosa collega Buono Costantinopoli a Marmo Adesso Costantinopoli Dovrebbe iniziare a volare No Viva Dio A breve mi servirà anche la religione Comunque Qua Sboscare la giungla Ce ne vuole un po' E lo mando Lo mando Qua A levare la foresta Altro non Non si può fare Tranne qua Vabbè La teoria Ma scenderà quello Qua non c'è altro da fare Tranne qua perife Andiamo a disboscare le foreste Così ci entrano Punti Di produzione I punti di produzione servono Semplicemente Per velocizzarci Quello nel da 6 Qua Eh Qua se lo ciuccia questo Vediamo se fonda qua Zeshin Se lo ciuccia si Questo qua sarà un motivo per dichiararci guerra l'uno contro l'altro Dunque Dobbiamo iniziare a correre adesso La matematica è la porta La posso disboscare una palude Allora devo innanzitutto Levare la giungla Scalpellino Così io aumento la produzione E poi ci dovrei essere Per ora stiamo messi In classifica così così Poi capirete il perché sono così tranquillo Ma vattata sta puttana De la pigliare nel culo Fattoria Musan qua raga da bruciare Cioè La butto a roco raga Come Zeshin messa qua Che cosa sicuramente farà fondare Ah no ma c'è già gli aggrumi Per fargli dichiarare guerra a Seul Vediamo Dichiarare guerra a Sejong Per ora non ha intenzione di dichiarargli guerra Uno ci prova anche Le religioni sono state istituite Cattolicesi Sono questi No Non sanno neanche cos'è Giardini pensili No giardini pensili Sono troppo forti Sbroccati per la strategia Molto di più del ricarnasso Che dopo potremo lasciare In sette turni anche Con l'aumento dei cittadini E a quel punto Giocarsela molto meglio Automatico Automatico Vai Iniziamo con Tutto automatico Tanto non è che ci sia un cazzo da fare No però ci sono le Ah no ma c'è Un altro territorio Direi trappole per animali Che svegliamo qua i cervi Che ci danno uno di produzione Che 15 turni però È la merda Però dovremmo andare giù da fattorie e tutto No levo questo raga Ma assolutamente no Brutto cratino Perché con le abbasciate Siamo sempre in un problema O sono profittevoli o no Se io do l'ambasciata a Napoleone Napoleone sa dove andarmi a consegnare l'atto Per dichiarare la guerra Almati Ah sta nella merda Almati Porca puttana Mentre Milano Non la caga nessuno Ah nel catmando Non se la caga nessuno 8 8 è un turno pieno 8 è un turno pieno Vabbè siamo a meno 2 di oro Leggiamo per altri 30 turni Costantinopoli vuole lo zucchero Ok La Polonia Ma questa è roba austriaca Qua con la città che è attaccata a Vienna Subito fortemente Niente che sia Territorio polacco Avanzo Tanto qua C'erano i giardini pensili Assolutamente no Perché un'amicizia con te Vorrebbe dire che Attila dice Beh attacco entrambi Fammi vedere la demografica Soldati Attila Noi siamo ultimi Non abbiamo un cazzo per difenderci Attualmente Neanche l'oro abbiamo per difenderci Nulla proprio Segaria Segaria non mi serve In realtà così tanto Andiamo a fare un ragionamento Un po' più Long term Teologia O teologia 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 anche perché non c'è altro Anzi caravan serraglio E almeno posso E' letteralmente in merda Nel caso il dovesse Faticamente girargli Di dichiarare Questo ci dovrebbe apparare Il pil Qua gli ho scovato Una riete Gli ho scovato Un grande generale Ha Ha la statua di Zeus Ha proprio Lui dice Guarda io Prendo e Vado All in Estudisci religione Ortodossia In realtà Non erano ortodossi Ma questo è un altro Un altro discorso Allora Credenza del fondatore Uno di oro Questo qua Tutto a disposizione La crescita è più veloce Di 10% Buono Bene Poi con il secondo rush Noi andiamo in spike Già lo siamo Adesso Perché ho preso 15% Una produzione prima E adesso ho preso Un 1% Per ogni seguace E noi ne abbiamo 6 Una città Che andrà a espandersi Comunque Siamo messi Veramente bene Una fatta Se fossi in lui Eh però Due qua no però Questo è un problema Geongiu piazzata qua Con Busan qua Bro Dobbiamo fare qualcosa Qua Dichiariamo la guerra Se gioco 2 e Ok È un buon prezzo È un buon prezzo È un buon prezzo Andiamo da Napoleone Oh oro Non c'è un cazzo Povero me la merda Casimiro invece Che dice È indebitato Beh bene Maria Teresa Eh ma povera Come noi Sejong Che raga Sejong che finanzia Una guerra Contro se stesso Sarebbe il top Ehm Eh Perché il marmo Non lo posso dare via Perché se dobbiamo Il marmo Perdo produzione E la paura Di uno scenario Di una guerra Contro Attila Mi spaventa Perché sarebbe over Mi servono Nove turni Raga Nove turni E poi posso iniziare Anche a giocare Ho finito Lo spike Dell'early Qua vado Di istruzione Poi E poi Lo scalo Il colosso Beh Posso farle tutte Vediamo qua Com'è la situazione Cagliarda Allora Ho il faithful Qua Eh raga C'è C'è Sidney Che Secondo me Verrà Tiraneggiata Merda Proprio Alicarnasso Diretto Senza se Senza ma No Niente france Oh Ci hanno fatto L'alicarnasso In faccia Ma Siamo mati Siamo mati Allora 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 Potrei andare Per una biblioteca Potrei Potrei anche andare Per un granaio Perché comunque Quanti turni ci mancano A questo Sono 70 Da 16 Tiraneggiata